Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi un video diverso dal solito rispetto a quelli che trovate nel mio canale perché mi è stato richiesto di fare questo video dalla mia capogruppo per raccontarvi la mia esperienza all'interno di questa azienda. Allora, io ormai è da quattro mesi che lavoro per i Vrochet, quindi non molto ma neanche poco. È da novembre che io sono entrata all'interno di questa azienda e sono stata appunto contattata da Alessia, la mia capogruppo, tramite Instagram. Allora, devo dire che ho accettato quasi subito l'offerta di lavorare per questa azienda ma non ero molto convinta del fatto di dover comunque trovare dei clienti. Io ero convinta del fatto che non avrei venduto niente, trovato nessuno. Però, mossa dal fatto di non dover fare un investimento e di potermi allontanare, poter smettere questo lavoro quando più pensavo che fosse giusto, ho comunque deciso di provarci. E appunto, ormai è da quattro mesi che sono all'interno di questa azienda quindi significa che le cose per ora stanno andando bene e infatti così è stato. Devo dire che ovviamente all'inizio non è stato semplice perché la paura più grande ovviamente era trovare dei clienti contattare dei clienti, farsi un proprio giro perché è molto importante farsi un proprio giro quindi devi trovare ovviamente il metodo giusto per te quello che ti fa trovare più clienti o comunque che i clienti devono avere fiducia di te. Quindi ho iniziato con delle liste broadcast che sono fondamentali quindi tramite Whatsapp, tramite dei messaggi soprattutto sponsorizzare le offerte del momento questi messaggi non c'è bisogno che voi li scrivete di mano vostra ma comunque anche tramite Alessia e tramite la nostra capogruppo Daniela io ho ricevuto un sacco di messaggi che poi ho copiato e incollato all'interno di queste chat e quindi appunto sono stati fondamentali ma fondamentali sono anche gli album che io porto sempre uno dietro con me all'interno della borsa dove appunto infatti vedete c'è scritto mio perché questo lo tengo solo io dove ho appuntato un sacco di cose tutte le nuove offerte lo scarabocchio, lo disegno soprattutto quando lo faccio vedere alle clienti magari cerchio il prezzo o cose del genere quando mando le foto del volantino quindi è fondamentale il catalogo fondamentale anche il fatto che voi li ordinate sempre all'interno del vostro ordine perché poi io scrivo sempre il mio nome il mio cognome e il numero di telefono lo consegno alla cliente e in base alla cliente a cui lo sto consegnando magari so che è una ragazza di 15 anni quindi magari tra nella crema idra vegetal metto un campioncino della crema così che lei sa che deve provare quella cosa deve testare quella cosa poi un'altra cosa fondamentale è il giro che si le ha dietro una sola cliente perché io lo do a una ragazza torna a casa c'è la madre, c'è la zia, c'è la nonna ci sono le amiche fanno vedere questo campioncino glielo fanno testare gli fa vedere il catalogo il gioco è fatto ragazzi pensavo che fosse molto più difficile invece è bellissima questo contatto che tu hai anche tramite i clienti da poco ho iniziato anche a fare dei mini video su instagram dove faccio testo io di persona le cose perché ragazze io penso che nessuno di voi compra dei prodotti al buio quindi far vedere e far testare le cose è fondamentale quindi ho iniziato da poco a fare questa tipologia di video su instagram e sta funzionando devo dire perché io ho fatto dei video dove mi struccavo quindi con il detergente della idra vegetal e poi mettevo la crema e utilizzavo lo struccante bifasico e devo dire che un sacco di persone mi hanno comprato la crema mi hanno comprato il detergente soprattutto con il vecchio album che c'era la promozione mi hanno chiesto moltissime della spugnetta che io utilizzo per struccarmi quindi per il detergente ma non solo anche per quanto riguarda l'acqua micellare e da poco anche per quanto riguarda il fondotinta in quanto ho fatto vedere la texture del fondotinta sulla mia mano visto che su questo album c'è la promozione del fondotinta e appunto ho iniziato anche qui su youtube a fare dei video ovviamente questo non mi ha portato dei clienti in più fare video su instagram e su youtube anche perché magari sono lontani da me quindi non posso fare degli ordini però devo dire che comunque giravo, giro il video per quanto riguarda il catalogo e magari visto che non ho ancora il catalogo online faccio girare quel video così che le clienti già vedono il catalogo e magari già iniziano a fare qualche ordine poi magari essendoci il catalogo ancora vecchio gli dico guarda se li vuoi subito puoi sfruttare ancora le offerte di questo catalogo quindi non dico che dovete diventare youtuber o fare video su youtube però comunque è molto importante la pubblicità e altro da dirvi non c'è provateci perché appunto non dovete fare nessun investimento e non avete nessun tipo di legame nel senso che potete smettere quando volete è una cosa bellissima perché la vostra azienda vi premia tantissimo soprattutto a livello di spese di ordini arrivano sempre dei regali per voi all'interno dei pacchi è fantastico avere cioè una miriade di campioncini all'interno della vostra borsa qualsiasi cosa perché sono tutti i regali dell'azienda godetevela perché è bellissimo non ascoltate le persone che vi dicono ma che fai ma dove vai ma chi ti credi di essere no fatelo perché è veramente un lavoro bellissimo niente vi mando un bacio spero che questo video vi sia stato d'aiuto ci vediamo al prossimo ciao ciao